Come state? Bentornati sul mio canale Allora, oggi nuovo video Come vedete sono qui nel mio salone Nella mia camera da pranzo Diciamo così Barra Camera relax E forse dietro è un po' tutto incasinato Mi sa, vabbè, vorrei fare un video Mac Bang E sinceramente non faccio video Mac Bang Da veramente tanto tempo Da mesi penso L'ultima volta l'avevo fatto in estate Ed era un video Mac Bang Dove mangio un panino con il salmone, credo E ho detto adesso sai che c'è di nuovo, mi va Quindi mi faccio un po' di compagnia con i ragazzi Facendo un video Mentre mangio E che vi volevo dire più Non lo so L'unica cosa è che non so come facciano le altre persone Quando fanno i video di Mac Bang Oppure i video eating sound, eccetera, eccetera A posizionare la videocamera, il cavalletto In modo tale che si vede quello che mangiano Cioè praticamente certi quando mangiano C'hanno proprio il piatto in faccia Ce l'hanno in modo tale che si vede tutto ciò che mangiano, eccetera Cioè quindi È come se tipo stanno con la tavola qua E il cibo qua Non so come facciano Sarò io veramente una capra Perché non riesco a capire come posizionare il tutto Comunque va bene Quindi mangerò con il piatto alzato Magari Abbasso un po' la fotocamera Mi vedrete un po' mozzata Però Facciamo che questo è un video di compagnia Insieme Della pasta Sembra una cosa orribile Io Devo essere sincera Non sono tanto brava negli impiattamenti Quando mi faccio le cose Sembrano dei Dei mappazzoni Però È buono Perché sono dei Tubetti Tubetti di pasta Con la salsa E Ricotta E quindi io direi di partire subito Oggi avevo Particolarmente voglia di Ho fatto i tubetti Perché solo quelli avevo in casa E quindi Avevo particolarmente voglia di salsa Con ricotta Con ricotta E siccome avevo una ricotta Da consumare Nel frigorifero Ho detto Sai che c'è di nuovo Faccio Un po' con succo Con la ricotta e salsa E la metto nella pasta E quindi Per questo motivo Ho fatto così Anche perché io sono contro Gli sprechi A me non piace Sprecare cose E Non mi piace Quando si butta il cibo Non mi piace Quando rimangono le cose Aperte nel frigorifero E uno non le mangia E quindi Lo so A volte Sembro Mia nonna Però Forse sono anche Un po' pesante In certi versi Però Non lo so Ma mi dà Molto fastidio Visto così Non sembra Tanto buono Però vi garantisco Che non è male E' bollente E' bollentissimo Mi stavo stionando Praticamente La lingua Cosa mi dite Di bello Allora Io ho notato Che In videocamera Sembra che mi stia Sbucando l'herpes Ma in realtà Non è vero E quindi Credo che Sia Dovuto Ai tanti Herpes Che mi escono Di solito E quindi Rimane un po' il segno Vabbè Ti ho visto Che questa settimana Le temperature Sono molto abbassate Oggi ci sono Tipo 7 gradi E stanotte Faceva un freddo Ma hai visto Cioè mi sono Morta di freddo Sia io Che mio marito Ci siamo morti Di freddo Con 3000 coperte Che teniamo Ci siamo comunque Morti di freddo Perché Le temperature Sono Molto calate E ho anche visto Il meteo Verso Fine settimana E settimana E settimana Prossima Dovrebbe Piovere Vabbè Infatti Sabato scorso Qui da me Ha fatto la neve Ha nevicato Cosa molto Rara Perché qua Quanto è che nevica? Praticamente Mai Solo che Noi Non c'eravamo Perché Io Mio marito Mia mamma E mia sorella Siamo andati All'Ikea E quindi L'Ikea Si trova Molto Lontano L'altra mia sorella Che stava qui Ha detto Quando voi Ve ne siete andati Ha fatto la neve Infatti Non abbiamo visto Eppure Mio padre Ha detto Ha fatto la neve C'erano delle Delle giapponesine Che si lanciavano Le Le palline di neve Figuratevi Quanta neve ha fatto Questo Questo succo È tipo Un succo Come dire Che all'interno C'è il basilico Ha un po' Di sapore Non so come dire Vabbè avete capito Un po' rustico Sapete La salsa rustica Tipo quella Io Non faccio Non faccio mai Quasi Mac Perché I miei Mac Sono così Praticamente Nel senso Che non sono Molto invitanti Perché mi faccio Paste Semplicissime Riso Il A volte Mi faccio Il riso A volte Il farro Cosa di questo C'è nel petto Di pollo Petto di tacchino Insalate Con tonno Salmone Quindi Cioè I miei pranzi Sono pranzi Semplicissimi E non sono Molto invitanti Quindi a volte Dico Che li faccia fa Però Ci sto per compagnia Ogni tanto E come vedete Io la pasta La mangio Cioè Non è vero Che io la pasta Non la mangio Infatti Spesse volte Mi è stato detto Eh ma tu Non mangi mai pasta Ma quanto mai Io la mangio La pasta E me ne mangio Anche parecchia Per questo motivo A volte evito Perché mi conosco E Non mi so dare mai Un freno Con la pasta Però La mangio Mi piace molto E' molto buono Se si sente tantissimo La ricotta E c'è tanto Tanto succo Tanto succo Perché A me piace la salsa Mi piace tantissimo Infatti A volte Me la bevo Cioè proprio La La verso E me la bevo Mi piace troppo E E poi Che altro Vi volevo dire Praticamente L'altro Quando ieri Ho recuperato Le puntate Dell'amica Geniale Che mi mancavano Perché Questo weekend Non ci sono stata Perché Siamo andati A Milano Eccetera Eccetera Quindi Non ho potuto vedere L'amica Geniale Che io amo E tra l'altro Era L'ultima Puntata Della Della terza Stagione Che è finita E E quindi Ieri abbiamo Recuperato Le puntate E sono già triste Perché Finisce Troppo In fritta Comunque E E quindi Adesso Dovrò Aspettare Ecco Anzi La quarta Stagione E ultima Solo che Mi ha lasciato Un po' Con la mano In bocca La puntata Di ieri L'ultima puntata Di ieri Tra l'altro Stiamo Continuando A guardare La serie Di Manifest E Abbiamo finito La seconda Stagione Quindi manca La terza Stagione Di Manifest Cioè io Ah e poi Io mangio Sempre col cucchiaio Qualsiasi Ovviamente Tranne gli spaghetti Però Io mangio Qualsiasi Tipo di pasta Sempre col cucchiaio Anche le pennette I fusilli Le farfalle Qualsiasi I paccheri Qualsiasi cosa Col cucchiaio Non so perché Tranne gli spaghetti Ovviamente Perché è impossibile Non so quanta pasta Ho mangiato Però avevo Abbastanza fame Ho fatto Un macello In cucina Perché Ho Sporcato Cento cose Vabbè Adesso Vado A sistemare Un po' Ho spazzolato Tutto il piatto Praticamente Non è rimasto Nulla Di nulla E adesso Vado a fare La cucina E E mi rilasso Un pochettino Noi ci vediamo Al prossimo video Spero che questo video Vi abbia Intrattenuto E tenuto Sempre Tanta compagnia Sì ma Ciao ciao